Sono quiiii! Buonasera, 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 buonasera a tutti, buonasera... Ragazzi, come state? Amici miei, come state? Ciao, il Gabriel Domino! Come stai? Voglio sapere da te come stai. Da giusto non me ne frega un cazzo. Ho stanco e sono sonno. Un applauso per Gabriel. No, è imbarazzante, lo so. Grazie a Denimax, mi fa condividere senza motivo e io senza motivo condivido. Allora, stasera non avevo la minima idea di che cosa fare in live, no? E loro ho detto, Choice Chamber, è un gioco semplice, è un platform, voi potete decidere il destino di ciò che mi accadrà in live, è divertente, voi vi divertite, io no, però l'importante è che voi vi divertite e quindi, boh, va bene così, no? Grazie mille anche a Vertian. Ricordi quando parlavi di tetramini e pentamini ed esamini? Beh, sappi che gli esamini possibili sono 35, grazie mille Vertian. E grazie anche a Gino per i suoi 13 mesi e Uomo Nero per i suoi 19, grazie. Io vi consiglierei anche di tenervi le sub per dopo, perché in game le sub ficcano. Grazie mille Filippo. Ed eccoci SinusGut, una buona sera e buona live a lei e famiglia. Parleremo magari un pochino in più del solito stasera, perché poi dopo il gioco non prevede la lettura della chat. In realtà sì, in parte, perché ci sono i momenti di spam, perché voi deciderete le armi, le stanze e tutto quanto. Allora, vedo che c'è della gente che sta venendo chiccata. Probabilmente avete scritto nella stanza video sub. Non scrivete nella stanza video sub. Non scrivete nella stanza video sub, venite chiccati. Per favore, non scrivete nella stanza video sub, venite chiccati. Ah sì, mi ricordo. Il problema del video dei sub non lo abbiamo risolto. Cioè, in parte sì. Adesso, molti di voi... Grazie a spieghi. Molti di voi si sono offerti di darmi un loro sito. Io li ringrazio infinitamente, però... Per fatturare e quant'altro, ho già parlato con una persona che creerà un sito per voi. Va bene? Creerà un sito solamente per voi, cari sub. In realtà sarà il mio sito e in più ci sarà la sezione sub e tutto quanto. Quindi, tranquilli, ci sarà un vostro sito. Un sito dove potrò caricare direttamente l'e-video, così YouTube non ci rompe le palle. Ora... Credo che in parte sia stata colpa mia, anzi molto probabilmente colpa mia, se il video dei sub è stato disintegrato da YouTube. Era un video leggermente esplicito. E per leggermente esplicito intendo che c'era un gioco di Pokémon in House Party dove facevi combattere due ragazze tra di loro e quando salivano di livello perdevano un indumento. E per catturarle, una volta che la ragazza era a terra, dovevi fare una situazione di questo tipo e poi... Avete capito? Il punto non era tanto l'azione, ma il fatto che non ci fossero censure. Ora, quel video lo avrete esattamente come la seconda parte, perché... C'è una seconda parte. Chiedo semplicemente ai subscriber di pazientare un po'. Pazientate un pochino, verrete ampliamente ricompensati. Ma no, non è spoiler, c'è molto di più, c'è molto di più. Verrete ricompensati perché ci sarà quel video, la seconda parte di quel video. E lunedì ne dovremo registrare un altro. Quindi, se tutto va bene, appena il nuovo sito è up, riceverete insomma una buona quantità di video per recuperare il divertimento perduto. A me dispiace tantissimo, però... Io avevo messo anche il video vietato ai minori di 18 anni. Evidentemente, aver messo il video vietato ai minori di 18 anni ha fatto scattare YouTube ancora più velocemente. Infatti, l'ha segato velocissimamente. Però... Ci siamo divertiti, no? Chi c'è? Chi c'è? Aspetta, a chi ero rimasto? Filippo! Ed eccoci, signor Gatto, una buona serata e una buona live a lei e famiglia. Ma mi pareva di averlo già letto, non so. Li leggo tutti e poi dopo non so mai che ho letto voce alta. Grazie a Marco, Gatto sempre in gamba, grazie mille. Grazie a Speedy, per i suoi 12 mesi. Lureluf, salve Gatto, non so quanti mesi siano. Perché Twitch è strano, comunque dovrebbero essere 5. Sono 5, è a posto. Grazie mille, grazie al Pudo. Grazie a Sulleswolf e a Dezandra. Dezandra. Grazie ai Termos per il loro ride. La divisione è con me. Grazie. A lei, a lei. Un po' altalenante questo ride. Porca vacca, comunque il gioco, cioè il video sarà interessante, il sito adesso mi costerà un botto, però per fare le cose a modo le faremo con molta calma. Ce lo godremo, ce lo godremo, dovete solo pazientare un po'. I video ci sono, li riceverete quanto prima. Grazie a Dedalus, salve Gatto, volevo chiederle se sta usando il navi... Il navi? E come si trova? Il navi cosa? Il navi che? Che cos'è il navi? Sono scemo? Dedalus, che cos'è il navi? Non so cosa sia. Comunque, per tutti quelli che mi avevano proposto Dailymotion, che è un sito dove si possono caricare altri tipi di contenuti, Nella jeep, il navigatore, il navigatore, il navigatore uso quello del telefono, solo che è collegato alla macchina. Comunque. Dicevo, Dailymotion ha un limite di upload di 2 giga, e non ci stiamo, il video ne pesa 4. Sono contento per lei, Xeno. È Dailymotion un po' scomodello. Ah, il drone! Navi il drone, non l'ho ancora più usato. Quindi, nella scatola sta da dio. Dai, giochiamo stasera. Con voi, mi raccomando, non siate stronzi. Provateci almeno. Non so che è difficile. Vediamo se si acchiappa, si acchiappa? Quando mai si acchiappa qualcosa qua? Non si acchiappa niente. Si acchiappa! Yes! Aspetta che mi sposto. Mi sposto qui. Mi rimpicciolisco un pochito. Anche se qualche iscritta, però... No, no, no. Forse è meglio stare di qua, perché... Poi... Potete scrivere, potete scrivere. E' alzate Teos Fight. Non è uscito Teos Fight? Uscirà dopo, allora. E grazie a... Costa Knight Pirate? Buonasera, sempre più grandi. A breve lo svezzamento. Cos'è la bile? Non posso dirlo, è un segreto. Ah, sì, mi ricordo. Ah. Ah. Che belli che siete. Ok. Ma perché il pad funziona? Ma non è vero che funziona il pad. Aspetta. Sì. Signozzo. Allora, per quelli che non conoscono il gioco... Ah, ok. Potete vedere lì in alto, a destra, appena finisce il primo caricamento... Ecco, è partito subito il caricamento. Ma vedo che avete già capito cosa dovete fare. Dovete scegliere l'arma. Ma se è possibile avere la spada, ve ne sarei grati. Poi dopo fate quello che vi pare. Ma la spada non sarebbe male. Qui c'è una palla. Salto con la palla. New record! E vabbè, ho capito, è impossibile. Io devo stare qui in questa stanza affinché voi non avete scelto. Ponga, ponga. Grazie a Tia Raiden. Buonasera, gattone. Grazie per la compagnia che mi offre, sempre per l'impegno che metterà in tutto ciò che fa. Grazie mille. Ne metto di impegno, effettivamente. Ah, i subscriber hanno il voto che vale due o tre. Adesso non mi ricordo. No, i moderatori forse tre, i subscriber vale due il loro voto. Poing, poing, poing. Posso andare? Posso andare, non posso andare. Uno. Porca madre. Uno, due, tre. No, tre. Tua mamma, quella grandissima! Posso andare? Posso andare? Posso andare? Ok. Theos Fight! Carissimo! Gizmo! Black Pyro? Un altro gizmo, scusami. Ah no, ho sbagliato! Ah, i nomi erano scritti sotto, perdonatemi! Erano Theos Fight, sì. Costa, ok. Costa, Black Pyro. E Tyrant, ok. Quanti ce n'è? E un arco. Come l'arco? Ma siete stronzi? Ho chiesto la spada. Ho letto male. Fasi uno. Ma loro che fanno? Interagiscono? Mi salutano? Che servono i subscriber, scusa? Sono simpatici loro. Doppio jump, per favore. Fatemi sto piccolo... Doppio... Ah, che palle! Perché posso sparare? Ah no, non posso sparare solo qui. Doppio salto, grazie. Che pogo. Oh, vi vero che scrivete tutti i pogo? Bastardi? Come si fa? Vedete, si è incastrato. Aia. Eh, ho capito il bastardo. Un soldino. Grazie Gabriel, t'ho visto che tu mi hai scritto po'. Double. Grazie. Tutti schi... Ma siete degli stronzi, eh? Ma veramente dei maleducati? E se mi potete aumentare la forza? Grazie. Fatto critico, fatte. Ecchia, vecchia. Eh, eh, eh. Oh, siete proprio degli stronzi, eh? Ma è che vi leggo in chat? Ma guarda... Vorrei avere degli aschi, grazie. Cosa mi dà adesso? Cavacca al pogo. No, non è vero. Non ho niente per adesso. Sarà la prossima stanza. Ma che sto arco? Ma perché l'arco? Che fastidio che mi dà? Tirati! Coglione di merda! Ok, uno è andato. Porca di quella vacca. Eh dai, pure l'uccellaccio. Questa dovrebbe essere una collaborazione. Questa è la gente. Yes! Grazie a Castomania. Buonasera, ragazzo. Non so cosa scrivere. Quindi Twitch Culo. Sempre e comunque. Grazie. Oh, altra gente! Porca troia. Vi odio. Grazie a Castomania. Oh, almeno... No, faster attack. Bastardo. Dai. Che pare che... Ah, se tengo premuto A smette di saltare. Ok. Beh, almeno ho scoperto una cosa. Fermo lì. Arcavacca. E questi sono livelli facili, sono. Ma non ho capito. Corri Suba che servono? Oltre ad essere bellissimi... Lì. Eh, tutti però si vogliono far piccare. Bravi, bravi. Prima a pigliarmi per il culo. Poi piccami, piccami. Bastardi. Vi evito. Tiè. No, non posso. Aski. Non mi avete tanto gli Aski? Grazie a Utsubo che sei il mio capitano. Ehmè? Che vuol dire? Dieci. C'è scritto Utsubo dieci lì in là. Ehmè? Che fa? Che fa? No, no. Oh, piano, eh? Qui... Muoio se cado nella merda lì? Eh. Che... Che abbiamo capito? Ah! Ah! Eh sì, non ci arrivo lì. Guarda che bella la Jules. E non ci arrivo lì. Un cuore intero, dai! Col poco, vaffanculo. Perché Constantin Pirate è schiacciato lì così? Un cuore? No, è un... Come c'è l'arrivo lì in alto? Non posso arrivare lì in alto. No, dai. Ne avrei bisogno, però. Vabbè, non importa. Andiamo via. Ah, ma adesso... Cioè, Constantin Pirate è lì che spara. Grazie, amico mio. Non me lo fa qualcosa. Ah, ma devono sparare loro? Aspettate un attimo. Ah! Subscriber! Ecco i vostri comandi! Guardate! Subscriber, voi che siete intorno a me... Potete premere queste cose qui, eh? Mi raccomando. Ah, ecco perché. Grazie, cortesemente. Fate sto favore. O fa nessuno, bastardi. Pure i sub. Sì, quelli... Questi qui intorno. Questi qui intorno. Customania, Tia, Black Pyro. Per adesso solo... Che fa? Che fa? Lo scopo. Smaller. Faster attacking. Eh, anche perché sono una mitraglietta. Confetti, che vuol dire? Non ho capito. Ok. Grazie a Raffo. Raffo, anche tu segui i controlli che c'è. Parca vacca. Bestia! Tra l'altro, non so se avete notato, ma ogni volta che li colpiamo c'è un aumento del volume terribile. E' un incubo. Grandi ragazzi. Venga, venga. Yes. Ok. Vediamo se lo scoprendo da qui. Yes. Grandissimi, grandissimi. Questa sì che collaborare. Bravi. Mi piacete tanto. Vado. Mi grattò il naso prima. Vado, eh. Le stanze adesso... Ah, big. Ho letto pig. Cazzo, come... Ho 200... Allora, mi prendo un cuore. E mi prendo anche uno di questi. Ah, una scelta sola? Allora, mi prendo lo slot. Oh, no, ma me lo dovete votare voi? E dai, datemi lo slot, per favore. Ah, sì, sta vincendo lo slot. Stop il televoto. Grazie. Yes. Grazie al cavallo austriaco. Come? Ah, e adesso è arrivato. Per dieci mesi, ma non ti avevo mica visto. Grazie. You... You got the fire mode. Aspetta. Non ho capito. No, Costan, sei morto. Mi dispiace. Che ciccione è questo qua? Perché va? Perché va? Ma sì, ma guarda che macchine da guerra che siamo, ragazzi. Guarda, il cavallo austriaco è appena arrivato, ma già ne sa. Raffo, Castomaria e Tia non vogliono. Maledetti. Grazie a Hazelene. Sono 16. Grazie a la compagnia. È stato bello abbracciarla. Alla Cartoon Mix. PS, dica a quel malanno dei WPT di lasciare in pace quello che puzza di più. E lui è vero. Sì, però io adesso ho due slot il cuore in più. Cioè, ho uno slot il cuore in più. Ma non ho il cuore. Ecco. Cilex, ma l'ho ringraziato. Gatto, perché Prime è stronzo? Siamo ufficialmente al terzo mese. Lo chiameremo Maurizio. Grazie, ma non... Ehi, Selina l'avevo vista. E voi resubbate che tanto sicuro vi leggo poi. Necca, necca. Qua si rischia. Ok. Grandissimi, grandissimi. Dai. Dai, che li spacchiamo. Parca, necca. No, no, no. Che culo. Sì, extra art. Extra art. Datemene tre. Tre extra art. Basterebbero due, ma io dico tre. Ho visto Pagliacci che ne hai messo zero, eh. Oh, vi banno? Tutti gli zero verranno bannati. Bastardi. Sighi Floors. Scusami. Perdonami. E mo? Cosa vuol dire Sticky Floor? Non mi cambia niente a me. Non vedo dei grandi cambiamenti, in realtà. Soldi. Bastia. No, ancora, 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 ancora. Yes. Grazie. Ma ne è arrivato uno? No, non è ancora arrivato il vostro. Cos'hanno di Sticky questi Floro? Cioè, è un po' Sticky, ma... Ah, ma perché non si può camminare senza saltare. Ah, vabbè. Ma per il Pogo non è un problema. Vi ho gabbati, eh. Belli. Vi ho gabbati. Cioè, ho visto dei sub da due anni che hanno scritto zero ai cuori. Vi sto proprio sui coglioni, eh. Ancora più veloce... Eh, vabbè, ho capito. Grazie. Però... Come sparo io, eh? Erca vacca. Non ci prendo mai. Bestia. Bestia. Bestia che lavori. Uh. Grandissimo cavallo. Ti ho visto. Hai fatto un headshot. Ah, il cavallo com'è un fire. Vado. Arca vacca. Mi sta venendo mal di testa a saltare così. Ve lo dico. Due cuori. Vabbè. Me ne bastava uno. Vi ringrazio. Le stanze vanno in alto. Ah. Ok. Quante stanze siamo? Ma Utsubu che cosa doveva fare, scusami? Che è per tre stanze. Non lo so. Coolpowers. ChoiceChamber.com Slash Sub. Perdonami. Ah. Ah. Oh. Mio Dio. No. Ma è impossibile. La merda. Eh. Eh vabbè. Yes. Ok. Ero invisibile. Non me lo dire. Non me lo dire che adesso non lo vedo più. Vedo solamente l'impronto per terra. E io non lo so dove sono. Eh niente. Lo sto prendendo credo. Aia che dolore. M'ho ucciso. E mi ha schicciato. L'abbiamo ucciso? Sì. I cuori, i cuori. Yes. Grazie a Clarava. Ciao gatto. Il mio ragazzo ti segue sempre. Lo saluti. Ciao Luigi. Sì. E grazie anche a Krulborg. Mi odiate eh? E come faccio adesso? Oh. Ok. Beh. Non ho sub. Chi era? Non l'ho letto. Adriano. Ah sì. Mi ricordo. Ma è riuscito? Non mi sei uscito. E grazie comunque. E grazie anche a Eidergarn. Doppio salto. Oh grazie. E Krulborg. Eccolo qui. Oh Adriano non mi è mica uscito sai? S'è rotto? Grazie anche a Watari. S'è rotto. S'è rotto. E Vicchia a questo punto ho esaurito le cose da dire. Ci penso e poi le faccio sapere. Grazie. Oh mi si vede. Eh niente. Inculatevi. Ho vinto il gioco. Niente. Eh sì. Eh sì. Mori. Mori bastardo. Mori. Ma sì. Ma sì. Guarda. Ha il blob. C'è il blob. Non è facile. Adesso senza doppio salto. Buongiorno. Buongiorno. Chia. Yes. Schiller le offro piccolo caffè per dirle moro culo. È come una specie di contraccolpo al karma. Mi porto in fortuna nei prossimi promenie nella sala di doppiaggio che ho bisogno di passare e non sentirmi un fallito. Ma figurati. Grazie mille. Io sono un uomo veramente sexy? Light Groot. Sono confuso da questa condivisione senza poter rinnovare il Prime ma con l'avviso di ascensione a pazzo Twitch. Ma assolutamente sì. Grazie. Hola. Cavallo austriaco è sempre pronto a difendermi. Mi piace il cavallo. E c'è. Cius. Niente. Mi posso aggiungere? Prego. Credo di sì. Bang. Ah no. Cioè le stanze vanno a fuoco adesso? Oh se vi diverte sto giochino non lo possiamo fare anche di più. Vedo che siamo in tanti. Vi vedo partecipi. Magari potrebbe essere... Visto che il venerdì sera siamo un po' più tranquilli. Un po' meno persone si può... Eh? Il room captain... Il room captain... Aspetta che mi scriveva Luco. Aspetta. Il room captain ha altri comandi da usare. Li vedi sulla destra nella schermata dove hai visto quelli dei sub? e non li vedo mica sai. Dov'è? Qua? No? Non lo so. Non c'è altro Luco. Aspetta che mi sta scrivendo. Scusate un attimo così vediamo... Deve aspettare che venga scelto. Ah ok ok grazie Luke. Ok allora. Uno di voi adesso verrà scelto come room captain. E i suoi comandi li leggeremo tra un attimo. Che cazzi duri! Fortuna che sono una leggenda con l'arco e frecce. Bestia 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 bestia! Ok. Voi siete quelli che usano il doppio salto così? Oppure al contrario? Oppure quelli che usano il salto normale e il doppio salto solo se serve? Così per curiosità. A me piace avere il doppio salto. Lo uso sempre perché lo uso come sicurezza. Meglio l'arco. Ah lei chi c'è? No dashing. C'era il dash. Accedia! Grazie! Ah no è stato scelto. Ok. Accedia vai. Ecco qui. I tuoi... Hai dieci stanze. In queste dieci stanze puoi mandarmi questi oggetti. Cioè. Uno immagino per ogni stanza. Ok? E grazie a Franti che niente con questi giochi ci si diverte un mondo. Sono contento. Sono contento. Come accedi? Perché con la risata lì? Accedi a poi mandarmi qualcosa che vuoi. Ah! Bestia, 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 bestia. Ma bastardo come mi hai evitato quello lì? Cosa mi manda? Un regalo, un regalo. Che cos'è questo regalo? Oh soldi random. Ok. Ti piace vincere facile? Non ti sbilanci. Ok. Buona. Bastardi questi qui che saltano come dei perinei. Ma è caduto il soldino. Niente, perso. Bestia! Dolores. Dolores. Un cuoricino mi farebbe comodo nella prossima stanza. Oh, il cuore di fuoco! Dammelo! Eh, tua mamma! Ok. Me l'ha dato? Sì. Ok. Quindi la prossima volta che ricevo danno, se non sbaglio, do fuoco a tutto quello che ho intorno. Grazie a Frantic! Ah, basta. Orca vacca questo! Che duro! Un regalino. Aiuto i nemici, nemici! Dolores. Ma dai! Eh, qua devo stare attento, eh. Sta diventando dura. Già sopra! E siamo a 17, grazie. Credo che ci abbiano pensato i miei sub, grandissimi. Grandi ragazzi. Ok, ok. Ammazziamo tutto quello che esce dai portali. Soldino. Bestia. Non c'entra niente, ma visto che ormai è diventata un monologo questa live, anche perché la chat è difficile da leggere. Sapete che James Gunn torna? Va bene. A Pino! Grazie mille! Grazie mille! E grazie anche a Soba! Grazie mille. Eccolo qua. James Gunn torna al comando dei guardiani della Galassia 3. Era stato licenziato lo scorso anno per tweet. Accedi, mi manderesti un cuore, cortesemente. E mi piacerebbe avere lo slot. Ma perché mi voto vale per uno, scusa? No, voglio lo slot e che accedi e mi riempia di cuore. È una grandissima new... Io sono contentissimo per... Citto. Io sono con... Posso? Ok. Sono contentissimo per James Gunn, perché i guardiani della Galassia mi sono piaciuti da morire... Scusami. Ah, dovete iscrivere, ok. Ok. Dovete scegliere le colonne. Cavacca, il Tetris. Pagliacci, il maledetto. Il regalino! Cos'è? Bastardo! Dai! Ma va a cagare, ma... Accedi a maledetto. Mi stiracchi un attimo. Mi faccia vedere! Ma va a cagare, ma... Io lo chiccherei! Ah, la mia schiena! Oh, io mi sono divertito. Bastardi. Ma è subresta, no? L'abbiamo ucciso noi! E' contento, Deflex? No, anziché darmi una mano. Oh, io sono il tuo streamer! Eh, aiutami! Bastardi. La mia schiena è stata una mela, era buona. Ma non mi interessa, fate quello che vi pare. Accetto qualunque merdata mi tiriate in faccia. Tanto batterò il mio record. Che è? Ah, best 20! Bello che mi di... 20 sole? Minchia! Ah, ma io potevo già andare, ok. Perché non dovevo aspettare giustamente il primo livello avendo già un'arma. Quindi, ok. Finché non scegliete una nuova arma, io posso andare avanti con l'arco. Giustamente. Beh, bello, almeno non si rende... Noioso, all'attesa. Ma bravo, bravo, bravo. Oh, questo gioco? L'ultimo momento che è stato aggiornato è stato nel 2016. Vi vedo col pogo, eh, bastardi. È che dei giochi così non ne hanno... Non ne abbiamo veramente più visti. C'è un gioco veramente bello. Che però va giocato in... In co-op. Purtroppo ho degli amici che non vogliono spendere dei soldi per comprare dei giochi. Da giocare sul loro canale Twitch. Ah, scusatemi un attimo. Metto un attimo in pausa. Vado a dare una mano alla donna. Che ha bisogno di una mano per le cose. Arrivo subitissimo. Due minuti e ci sono. Grazie. 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 volevo smutarmi volevo smutarmi eccomi qui dai dove sono andati tutti no ma dove un attimo 100 persone ho perso mai un martello un salto alto fumando grazie che non l'ho mica visto scusa il room captain ok ecco qui con i tuoi comandi 100 persone senza pazienza tutti in bagno almeno sei sicuro che la gente è qui per lei ho capito ho fatto le scale cavacca ma l'animazione è quella di ice cream berg bastia dax io ringrazio per questi tredici mesi continui così lei è troppo forte insomma yes grazie bang no è che lì che liscio bestia che grosso questo ohm ciao gattone 20 mesi di noi grazie mille ma signor fumando mi sta dando le situazioni tipo quello che vuoi quello che vuoi qualcosa però perché siamo già a sette stanze come mi ha dato un cuore ah mi uccideva quel cuore lì ok ci siamo bestia oh dobbiamo battere il record dei 20 eh vado tiny enemies è arrivata anche la mia signora che non saluta perché vi odia ciao almeno ho sciotto quelli piccolini con questo coso non ti sento dimmi ciao sif non puoi non ci stiamo c'è il green screen è arrabbiato è arrabbiato che cazzo e qua dovete dovete farmi e ho capito dovete fare voi la passerella grazie vediamo se riesco manzo ma sei uno stronzo cos'è questo cuore volante faster attacking yes e laser eh ogni morte è un rave uno slot no 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 lo slot voglio lo slot ho votato da solo fanculo sono il capo di tutti le stanze sono adesso piccole yeah stanze piccole e martellate dure a ogni morte è anche degli avversari è un rave va bene mamma mia se sono fortissimo mi si è spostato il green screen si vede ancora un po' così ma va bene dai un cuore moneta ho una bella collezione di cuori diversi ice mode cosa fa i nemici possono essere congelati da te ho letto bene ah ecco dov'è l'util ma ucciso porca troia ma dov'è l'utilità dell'uccidere i nemici del congelarli cioè questi qui li shottavo prima adesso non li posso più shottare e niente adesso muoio sempre e cazzo e ok vai frantic spacca lo cazzo ok perfetto vai si fu non commento non commento bestia si ma quanto troppo bene andare su un pavimento fortuna che si gliccia c'è un po' il martello comunque stavo dicendo che me i compagniucci di merende che fanno il mio stesso lavoro non vogliono spendere soldi su un titolo eccezionale per chi segue questo canale da tanto sono ancora più veloce ad attaccare ottimo grazie due cuori grazie ma che gentili per chi segue questo canale da tanto ma frantic mi fa anche da bello bestia niente figura di merda il gioco è idarb perché sono morto cosa mi ha fatto non ho visto idarb è praticamente una specie di gioco di palla a mano 2d eh merda sono morto perché ero disattento non avevo visto quello lì volante è perché ho tutti i sub in mezzo alle balle quelli che volano non li vedo ok adesso non ho più cuore però devo starci attento un cuoricino un cuoricino grazie un cuoricino ecco ecco fumando non c'è stato utile in questa in questo combattimento arduo bestia ok soldini buono e grazie a tabans e niente abbiamo finito le stanze perfetto come entri non so bestia 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 che paura al caracca lo sapevo niente niente comunque si chiamava i darb questo gioco ed era 2 contro 2 se non 4 contro 4 adesso non mi ricordo era un gioco abbastanza figo in 2d ed era il gioco della palla a mano in 2d un po' come questo gioco qui che è stato non mi funziona perché non mi funziona ok adesso funziona ma perché ho perso così tanti frame scusami cosa cacchio è che c'è qualcosa che ha scaricato forse ho droppato 4000 frame sto droppando ancora perché sto droppando fammi vedere un attimo scusatemi non mi fa tabbare questo gioco non so come mai troppo però fammi vedere no non è il mio pc non lo so mi fa dabbare è già un bel po' che perdi eh non lo so ho visto che da un po' che fa ma non c'è un aggiornamento del telefono qualche applicazione non mi pare proprio cioè non so ma non mi dice nulla no effettivamente c'è qualcosa che mi sta intasando la banda che cos'è eh vallo a capire scatto da quasi inizio live e non lo so cosa c'è che sta sky grazie ad AnnaClean la tv non ho idea vado a chiedere aspettate un attimo eh vabbè ho capito stasera va così mi dispiace ragazzi ma non capisco si sta bene buongiorno grazie a tutti ne perdo altri 100 non lo so cosa sia il problema non so se sia il mac non so se sia boh c'è un modo per spegnere il wifi un attimo giusto per curiosità wifi rete wired scanale radio sicurezza timer facciamo proviamo a fare così per sicurezza però spegnere un attimo il wifi vediamo ok fammi vedere ho spento il wifi adesso vado a dio qui c'era qualcosa in wifi vabbè togliamo il wifi per una decina di minuti e via vado guardate cosa cosa devo fare va bene una spada grazie AnnaClean grazie mille no probabilmente c'era qualcosa che stava scaricando un telefono forse la switch che è un aggiornamento non ho idea vabbè ovvio che non sto streamando dal wifi io sono attaccato col cavo ho spento il wifi guarda caso funziona tutto per il meglio adesso aia che dolore cazzo ma la spada non fa un cazzo di danno fortissimo comunque i darb è il mio sogno da un sacco perché quello lì è bellissimo è un gioco in 2d palla a mano e voi decidete un sacco di cose raggiunge dei livelli di fuori di testa guarda non avete idea sai che c'è così così me lo compro vaffanculo ve lo faccio vedere anzi sai che c'è mancano 10 minuti lo proviamo finiamo questa catraia catraia yes aperta un cuore no beh quello lì non mi serve ostia gabriel no merda oh e dai cuore 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 ok perfetto no no eh grazie ma perché sono ah no non sono più no grazie mille a rock viva 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 per i suoi due mesi grazie mille cg cg oh mi raccomando uno per stanza e non ci arrivo a quelli lì subscriber non state attaccando però eh e mbe oh eccolo lì grazie mille cg cuore d'oro ah ok ho aperto la stanza non ho capito com'è successo ma ok oh mi ha dolfatto un cuore ok yes oh non mi serve però grazie vedi si che è una persona tiny enemies va bene è una persona amorevole ma perché succedono ste cose confetti no merda me lo so no me l'ha dato di qua ok decido io ok vai no sto iniziando a rompermi ragazzi scusate non riesco più starci dietro ok bestia niente vabbè non importa siamo morti e a questo punto vado un attimino ma che tristezza vado un attimino a vedere i darb che dovrebbe essere qui i darb sul microsoft store 15 euro ostia costa effettivamente non 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 so quanto c'è su steam per me vedere darb no è un'esclusiva microsoft cazzo quanti soldi c'ho sul mio non c'ho soldi su steam gaming ne dubito però posso prendere dei crediti vediamo quanto pesa perché se pesa poco lo posso scaricare al volo e mostrarvelo 650 mega garv signor lo sapete che il 19 è il numero detto felice perché nella smorfia corrisponde alla risata e sono tante le risate che mi ha fatto fare in questi mesi e si vuole bene efficienza in abbondanza dabbo grazie mille quello che dico io prendo portafogli dice jules allora fammi prendere dei crediti un attimo da instangame se io faccio acquista se no non ne ho già il mio pin non guardate saldo dell'account microsoft 12 euro oh si va bene dai vado a pagare poco lo faccio vedere zio web è logato finalmente riesco a seguire una live da pc grazie mille e il cowboy twitch mi fa condividere quindi ricondivido con piacere grazie mille anche a lei signorina vuole venire a provare il gioco con moi con il pad che non trovo ah si mi ricordo che cazzo l'ho messo eccolo lì stai un piede di due minuti dai non ho la sedia pigrona sei giovane cowboy l'ho già letto grazie sto scaricando eh datemi un attimo ci vorrà due minuti lo scarico adesso si che starò laggando per colpa mia ok intanto connetto anche il secondo pend senti Sif che ulula nel frattempo ok toccare per configurare il wireless controller che magia consenti connessione seguita wow ok si si cambieremo anche lo sfondo ragazzi datemi il tempo il tempo lo faremo promesso io devo capire tra l'altro cosa stava scaricando cosa c'è un aggiornamento apple per caso ok ok imbarazzante aspettate un attimo si si Fino viene via con noi anche il nome dei sui grazie a mark phoenix per i suoi 20 mesi e beh notizie del sedutore nessuna ottieni altre info sui download più rapidi mi dice e no voglio vedere era a casa mia sig era a casa mia perché io ce l'avevo sull'xbox i darb e infatti non so per quale motivo non ci sia non ce l'abbio su pc mi da un po' fastidio anche questa cosa le recensioni in realtà dicono sono bassine non so perché è una la recensione sono due uno che gli ha dato 5 stelle uno che gli ha dato 1 stella ma il commento è solo dell'1 stella acquistato gioco mesi fa nella speranza di giocare online un giorno nulla è stato risolto e soldi e buttato soldi che nessuno mi restituirà mai davvero deluso ma il che va rimborso non credo si possa fare dal microsoft door attenzione mancano circa 200 mega vabbè a sto punto io tirerei giù anche qui la situazione così siamo magari quello più comodi che cacchi ah la mia schiena 100 mega sentite l'ansia la suspense di questo venerdì sera anche in termos c'è un giocato e non lo so ero sicuro che io mi ricordo che gli ho rotto i culini un sacco non l'hanno mai voluto forse c'è stata una specie di free weekend l'hanno provato 25 mega 25 mega ok vai 5 mega gioca ok vediamo se me lo piglio arrivo eh il volume è molto alto non ti sento no non vedete non importa adesso faccio non ti sento Il volume in questo momento è a 1 Oh, mi sentite? Adesso l'ho abbassato dal mixer E il volume del gioco è a 1 Aspetta che non riesco a trovare Fartdashing E vogliamo mettere fullscreen Vediamo se riesco Perché in questo momento non è fullscreen Ma che strano E anche... Quale sono io? Non ci sono Non funziona Perché non funziona? Ah, ok Adesso funziona Live! Il gatto è sotto Allora, ci sono i vostri messaggi lì sotto E E non mi ricordo Come cazzo dovete Ci sono delle Aspetta che andiamo a vedere La mamma mia No Niente Si segue al posto mio No? Sta in piedi? Fuck No Non mi ricordo i comandi Non me li ricordo proprio Prendi, prendi Prendi, prendi Intanto che Cerco di capire Sono un'infinità I comandi Esatto, Luco Dove si vedono? Unza, unza, unza Grazie Luco Per I comandi Noi Li scriviamo In Chat Li Linkiamo Dal Sito Yo 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 Io vi linko questa cosa qui Apritevelo In un'altra tab Local Placing Master Cops Versus Cthulhu Il maiale Il maiale Sarà il mio personale Prego Allora Con Facendo su e giù Cambi Tipologia Di squadra Grazie E destra e sinistra Il personale Ad esempio Questa è la squadra Breakfast Se fai destra e sinistra Passi delle uova Al bacon O la salsiccia O Come si chiama Bravissima Cacchio Io voglio Il bacon Contro un maiale Vivo Contro morto Allora I comandi Li potete utilizzare Dal momento in cui Iniziamo a giocare Mi dici in cosa consiste Che non ho mai visto Allora Perché non sai giocare I giochi belli Allora Con l'A Si salva Ok Praticamente Questo è un gioco Dalla palla a mano La Quella Quella blu È la mia È la mia porta Quella rossa È la tua E in centro C'è la palla Praticamente Tu Con l'A Salti Ok Raccogli la palla E con Come l'hai raccolta Basta Sì Basta avvicinarci Sì E con La X Oppure con i grilletti Ti avvicini E fai un impulso Vedi che puoi fare un impulso Con l'impulso Lo puoi usare Per rubarmi la palla Prova Ok E poi la spedisci da qualche parte Oppure per lanciarla Faccio così Miro Non va Hai capito È abbastanza semplice E loro nel mentre Possono scrivere Dei comandi Perché non la prende La spingeva Ma non la prendeva Dei comandi Che però Non vedo Che stanno Che funzionano Non si possono fare Un po' di tutto Veramente di tutto Mi fate ricroll Per favore Cos'è un diaculo Al 48428 Per la solita polifonica Che fico Ma che caso Ma che parlo E non riesco a farlo Io sto giocando Ah ok Se non gli do Ok Ah puoi entrare anche Dentro la porta Con la palla Funziona Allora No con l'y Non Eh vedi Questa è una delle cose Che possono fare Vedi Psicopompo Ha scritto bu E è venuto fuori quello Questa è un'altra cosa Che viene fuori Ok Vedo che stai iniziando A funzionare Io vi ammazzo Ecco ditemi Se questo non deve essere Il gioco della vita Eh Aspetta Facciamo così Cambiamo mappa Solo Solo perché questa qui È troppo difficile Facciamo Facciamone una Nella mappa base Così impari a giocare Ben bene Diciamo che Premiamo Non avendo Sì infatti Di avere dimestichezza Le cuffie tra l'altro Non mi spavento Quanto dovrei Vabbè Ok Dobbiamo aspettare Non mi spavento Dovete mettere l'hashtag Per scrivere i comandi Ragazzi Dovete scrivere Dovete scrivere Hashtag E poi quello che volete fare Perché non è Eh Sì Ecco Vedi Vedi Qual è la cosa divertente Che il gioco è completamente Fottuto Che divertente Tra i comandi c'è E la palla era diventata Una bomba Ah Quando muori Si finisce qui sotto E poi dar fastidio D'avversario Perché sarebbe un gioco 4v4 E adesso siamo anche Sweepati Vedi che siamo C'è lo specchio Questo gioco Eccolo E i termos Non vogliono giocare A questa perla Con me Quante palle E solo una è giusta O sono tutte giuste Uh Quando fai un gol Della madonna Ti fai il mega replay E vale 2 punti Ma non riesco a giocare Mentre sono ricrollata Però Che succede Che succede Perché posso camminare Ah Perché i controlli Sono al contrario Ma dai Sono diventati Eh vabbè Vomito Vogliamo Cazzo Io E' un tostiera No 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 E dai Che mi Storto sempre Cazzo Non riesco a andare Al contrario Invece Io si In quanto campione Del mondo In qualunque corpo Sbagliato Giusti Eccolo Il golasso Allora Io già faccio fatica A giocare Un gioco In maniera normale Figuriamoci Ancora Contra Niente Sono Massa E la bambina I tirolesi Che poi sono tutti Embriachi Con la birra Wow No dai La birra La birra Tirolese Ma dai Ma che cazzo Ok Finalmente Adesso mi dai Mi pare che quando diventi on fire Ti sei fatto autogol Coglione Oh ragazzi 15 euro Ragazzi Fatto vol 15 euro Poi per carità Con gli amici Ci sono di due Il gioco Non è così figo Senza Twitch Secondo me Però è divertente Non so se ci si Si possa mettere Un piccolo cooldown Oppure se debba esserci Per forza Sempre il disastro Uuuuuh Perché devi avere Tutto questo cubo Di merda Tutto bastardo Sì E va bene E adesso Con le cuffie Deve essere un incubo Quella roba lì Chi sono Che sono quelli lì Gli spettatori Fichissimo Credo E golla No Ah un laser Mi ha ucciso Quante palle Quante Anche io Ah La palla vera È una Non c'è problema Così Hai fatto un punto Ficuro Se attiri Fai i due punti Se ci entri Dentro Questo Non lo bevo Stronzo Otto secondi Dalla fine Il grandissimo gatto Pilla la palla E niente Stavo capendo io Il gol Tra l'altro Più fai gol Più ti potenzi Ti viene tipo Il Kaioken E sfondi la porta Si rompe tutta Poi quando fai gol Che trevi A fare? Che devo fare? E coso è? E come si chiama? Dai Che non E non mi viene È Tron Lo scopo è ucciderti In che modo Ti mi uccidi? Facendo tirallino Davanti alla faccia Ti Yes Campionissimo di Tron Bastardo Cazzo Invece 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 Va bene Va bene Non capisco Chi sono io Sono quella Che Ah ok Ma che gioco Continua Mentre ci sono Di desforacchi Eccolo Eccolo Incastro Siamo delle meraviglie Che è successo? Dove sono io? Sono incastrato Morto Ok 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 Che figura di merda Che figura di merda Ti è Ti è Ti è Ma perché sta giocando Con questo pa' di merda Non riesco neanche a tenerlo in mano È un disastro Di ingegneria meccanica Poveri Vi piace questo gioco? Perché se vi piace Costringo Allagato Sì Costringo qualcuno A comprarlo insieme a me Penalità Lo possiamo riproporre Come non capisci Ma è Bigfoot Siamo 17 a 1 Ovviamente Per il sottoscritto Cos'è quel dito Che fa All'ultimo Cos'è quel dito E vabbè Tanto tu sei Ma è morto Guarda che ho detto All'inizio della partita Non ci ho fatto caso Tu maiale Io bacon Tu prima Io dopo Tanto sotto Passava la pubblicità di Shantaro Un bellissimo indie platform Se vi piace il genere Cazzo gli squali Sì Dove Arrivo? Sì Abbiamo tirata Bestia Bestia Stai imparando a giocare Complimenti Invia gatto Il 4-1 Non mi dai mai il tempo Di imparare i giochi Mi puoi sempre giocare Appena EDS Guarda Guarda Con caduta Mi so di averlo io Tre punti Non so perché Però me ne ha dati tre Cazzo Al contrario Avete finito Con questo Po di merda Tanto non ho capito Cosa serviva A twitter Ma si poteva fare Anche con twitter Sì Sì vedi che c'è L'hashtag Da usare Su twitter Bestia Bestia Eccolo Eccolo Cosa vuol dire Cos'è quel gesto Cosa vuol dire Non vuol dire niente Vuol dire che sto vincendo E tu sei una pippa Va bene Però una Hey Selene E' un po' confusionario Sto cercando di capire Cosa sia Succedendo tra audio e video E tu la fa ridere Grazie anche a Napolita Ah giusto Cosa Di premere lato Ma va in culo E piangere tanto Ma che cazzo vuol dire Ma va in culo Però non si sta muovendo Sì stai piangendo Facendo l'acqua sotto Non so leggere Mi trovo Guarda Yes Oh no C'è la vecchia fattoria Perché se mi usa Certo Pansone Ragazzi Noi adesso Abbiamo sforato abbastanza Vorrei riattaccare il wifi Quindi vi ringrazio Come sempre Per donazioni Super e sub Spero che vi siate divertiti In questa live Io sinceramente Abbastanza È stata una live Un po' così improvvisata Perché stasera Non sapevo che cazzo fare Oh Ci siamo divertiti L'importante è questo Lo riproporremo Io non vi saluto Grazie a tutti ragazzi E buonanotte A domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti